Eccoci qua, videoblog, quarto giorno Siamo andati al quarto giorno, ci siamo fatti altri 500 km quasi 4.40 4.40, sempre fra freddo, gelo, acqua, veramente un tempo così, non si pensava di trovarlo Però sei arrivati in Turchia almeno Ora siamo in Turchia, ora ci troviamo a 100 km appunto da Istanbul Stamattina faremo una sosta a Istanbul per vedere un po' la città, fare qualche fotina E poi via si riporti Lì abbiamo dato un'occhiata alla cartina appunto del Nord Africa E ora un po' di dubbi avvengono Abbiamo visto le strade che dobbiamo battere Dovremmo attraversarle in circa 200-300 km di deserto Quindi quelli ci fanno un po' paura Però ci penseremo dopo, ora ci guidiamo alla Turchia Siamo in questo meraviglioso posto, essendo fuori stagione Riusciamo a trovare delle stanze veramente a una cifra irrisoria, ridicola E appunto ora siamo qui, siamo in un bellissimo mare No? Sì, c'è anche un bel sole finalmente oggi Ieri c'è stato tutto il tempo nuvole, freddo, sempre 8 gradi Oggi siamo contenti, ci siamo alzati con il sole Abbiamo già caricato la moto Abbiamo fatto colazione con cetroli e uova Non mi chiedete perché? Lasciamo stare che è meglio Per oggi siamo carichi Abbiamo fatto tanti chilometri, il tempo è bello, non vediamo l'ora Facciamo vedere un po' dove siamo Come potete vedere, poi se è suggestivo L'unico problema è che c'era una bestia di pastore tedesco stasera, non si poteva uscire Tipo ce l'ha già detto, ce l'ha detto ieri sera Insomma, ditemi quando volete fare le colazioni Però mi raccomando, non uscite prima perché libero i cani Infatti tutta la notte con questi cani che ci abbaiavamo intorno alla stanza Non è stato molto gradevole Però abbiamo dormito Sì, abbiamo dormito Stanze infestate da formiche, freddissime Però ce l'abbiamo fatta Quindi da vicino alla Turchia Perché non abbiamo ben capito dove siamo Alla prossima Ciao Ciao